Non vi ripeterò certamente tutto quello che i miei fratelli qui alla mia sinistra vi hanno già spiegato così dettagliatamente e così profondamente che mi hanno assolutamente battuto. Io posso essere solo felice che amici miei, fratelli miei che abbiamo percorso lo stesso cammino da 30 anni sono diventati studiosi, storici, teologi, investigatori, giornalisti e che trattano e divulgono il nostro discorso molto meglio di me, senz'altro. Io ringrazio anche a Pier e a Flavio che hanno parlato della mia storia, quindi mi hanno risparmiato anche il ricordarla nei dettagli, però io oggi sono venuto qui e un messaggio ve lo devo dare. Poi se volete fatemi delle domande perché a me viene più facile rispondere alle domande. Voi dovete capire che io oggi compio questa riunione che noi facciamo oggi è la numero 27, è la ventisettesima volta che noi ci incontriamo qui a Porto Sant'Elpidio o a Sant'Elpidia Mare, insomma in questi luoghi, per parlare della stessa cosa, per ripetere in mille guise e in mille modi la stessa identica cosa. Quindi io non voglio tediarvi, annoiarvi, ma che cosa ci devo raccontare ancora Giorgio? È 27 anni che ripete la stessa storia e insiste. Che cosa c'ha da dirci di nuovo? Niente. Quello che ho da dirvi di nuovo ve l'hanno già detto i miei amici e fratelli quando vi hanno parlato dei segni. Questo è una novità. In questi 27 anni oggi viviamo dei segni che nell'89, quando io ho ricevuto la chiamata dalla Madonna, non c'erano, non mi risultano. Quindi io sono grato a Dio che ci sono tanti segni che si manifestano nel mondo. E quello che devo fare, quindi, insieme a loro, è essere testimone di questi segni. Non solo dei miei, ma anche di quelli che appaiono. E poi divulgare i messaggi che mi vengono trasmessi da questi esseri di luce, che noi chiamiamo anche extraterrestri. Voi potete chiamarli anche angeli. Quindi, chiamateli come volete, sono le milizie celesti, quelli che Cristo chiamava legioni di angeli. Cristo. Ecco, Cristo è il mio massimo punto di riferimento. E il maestro per il quale lavoro, e non so perché, ma forse lo so, mi ha chiamato a un compito ben preciso, che, sebbene lo abbiamo detto in mille guise e in mille modi, è la mia missione ripeterlo, insistendo, quello di annunciare la sua prossima venuta nel mondo. Cioè, Cristo, Gesù Cristo, nel capitolo 24 di questo Vangelo, ricorda a tutti che Lui andrà al Padre, ma ritornerà con potenza e gloria. Quindi, se è vero, come è vero, che Gesù ha salvato gli uomini dal peccato, quelli che credono in Lui, perché quelli che non credono e non fanno le azioni, non si salvano. Quindi, questo è il primo messaggio che vi do. La salvezza non è per tutti. E quando i nostri sacerdoti dicono che Cristo ha salvato tutti, mentono, dicono bugie, sono bugiardi, perché Cristo salva dal peccato tutti coloro che si pentono e si redimono. Infatti, nel Vangelo viene detto molto chiaro, nel capitolo 24, Gesù dice, ritornerò e separerò il grano dalla zizzania, ma ritornerà sulla terra. Quindi la zizzania e il grano sono qua. E a chi mi ha vestito, mi ha dato da mangiare, mi ha sfamato, perché Cristo si identifica in chi soffre, io gli dirò, ti conosco, vieni nella casa del Padre mio, nel regno del Padre mio. A chi invece ha mentito, ucciso, e non si è pentito, perché uno può anche uccidere e pentirsi. Ma chi non si pente non merita il regno di Dio. Quindi noi dobbiamo stare attenti quando ci viene detto dal prete in chiesa, giustamente, che Cristo ci ha salvato. La salvezza non è per tutti, è per chi la merita. Quindi Cristo mi ha dato il compito di parlare della verità. E la verità è anche la giustizia. Cristo nel Vangelo, io non lo leggo il Vangelo, non ve lo leggo, perché lo conosco. Quindi vi racconto delle storie per cercare affinché noi, io con voi, possiamo realizzare quei valori che ci possono candidare a ereditare il regno di Dio che prossimo si manifesterà sulla terra. Se voi oggi siete qui stasera, 250 persone, 200 persone, è perché avete sentito, percepito, un motivo per venire, una chiamata, una curiosità. Quindi questo significa che siete interessati non solo ai valori materiali, ma anche a quelli spirituali. Per questo motivo vi parlo di Cristo. Cristo è il figlio di Dio. Cristo è sulla terra. Ora, io capisco che nel 2016, alle sette e mezza di sera, sentire parlare a un tizio che si chiama Giorgio Bongiovanni, che vi dice Io ho visto Cristo, non è tanto una cosa così da dire Vabbè, sì, hai visto Cristo. Cioè, è una cosa molto, molto incredibile. Un racconto inverosimile per la vostra crescita, per come siete stati cresciuti, educati. Cioè, è sconvolgente. Quindi io non mi offendo se voi siete scettici. Ma voi non vi dovete offendere se io vi sparo la verità sulla faccia. Poi voi dovete decidere. Dovete dire ci credo o non ci credo, perché è vero che se io vi racconto che ho visto Gesù Cristo fisicamente, spiritualmente e mi è apparso anche, l'ho toccato, mi ha parlato. Voi potete non credere, dire non ci credo, non è vero. Però io posso dire a voi, e se è vero, e quindi voi dovete avere il dubbio che quello che vi racconta un uomo, e grazie a Dio non sono solo io, potrebbe essere la verità, che Gesù si fa vedere da alcune persone nel mondo, dà dei segni e annuncia la sua prossima venuta. Quindi qui perché ci stiamo a fare noi? Che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo preparare. E ci dobbiamo preparare secondo gli insegnamenti che Cristo ci ha lasciato nel Vangelo, affinché appunto noi potessimo, possiamo essere pronti a riceverlo. perché quando lui verrà, verrà con questi esseri dei quali vi ha parlato Pier e Flavio, quindi questi angeli, non verrà per offrire di nuovo la buona novella. verrà come giudice giudicante, non come magistrato, ma come magistrato divino che giudica e darà le condanne e le assoluzioni. Quindi quel giorno noi dobbiamo farci trovare pronti, perché aspettare quel giorno e vivere la bella vita qui significa già da adesso, senza che io entro nel merito del giudizio ma vi do un consiglio, essere giudicati negativamente, perché questo tempo nel mondo si sta manifestando perché si sta preparando un altro mondo, nuovo, soprattutto per i giovani e per i bambini. Quindi noi ci dobbiamo preparare a essere migliori o addirittura a cambiare radicalmente la nostra vita. E quindi essere buoni, amare il prossimo, lavorare a favore della vita.